Sanità a tavolo istituzionale, il bilancio del primo incontro di Matera e di Candia. Mal tempo, nel Vallo di Diano fa paura il fiume Tanagro, il bussento teme il mare. Banca Montepruno, il direttore albanese parla del ruolo delle BCC e sollecita nuove regole per il credito cooperativo. Terremoto 1980, la paura della scossa e il senso di comunità, un ricordo ancora vivo. Sala Consilina, tra le iniziative Green del Cicerone e i laboratori di riciclo e riuso creativo dei tessuti. Ben trovati al nostro telegiornale. La questione sanità sarà un argomento posto sotto la lende di ingrandimento per il Vallo di Diano. L'incontro di lunedì scorso a Teggiano è stato fondamentale anche per aprire un approccio chiaro e senza veli tra i diversi sindaci del territorio e per dare un segnale di serietà e disponibilità condivisa al fine di puntare ad un potenziamento serio del settore. Un primo incontro a cui ne eseguiranno altri che il consigliere regionale Corrado Matera, promotore dell'iniziativa, ha ritenuto proficuo proprio per avere finalmente aperto un dibattito serio e senza ombre tra tutti i sindaci. Ora però bisogna unire le forze per presentare una proposta di rafforzamento della sanità territoriale che sia credibile e condivisibile. Sull'esito dell'incontro abbiamo ascoltato il consigliere Matera che è il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia. È stato senz'altro un incontro costruttivo, erano presenti tutti i sindaci. Sulla sanità non si possono accettare divisioni, si tratta della salute della gente, per cui ho chiesto unità e anche una proposta che interessa il territorio. Abbiamo parlato delle diverse criticità che oggi esistono, vi è il problema dei punti nascita, vi è il problema dell'oncologia che deve essere necessariamente messa e riaperta. Abbiamo parlato della carenza del personale, abbiamo parlato dell'emergenza, abbiamo parlato della psichiatria, insomma un po' di tutto ciò che riguarda la sanità del Vallo Viviano. È importante fare fronte comune, non dividersi, è importante rappresentare al direttore generale una proposta che sia del territorio, che riguardi l'acuto e quindi l'ospedale di Polla, il potenziamento dello stesso e nello stesso tempo che riguardi anche la medicina territoriale, garantendo quindi l'emergenza che è senz'altro fondamentale per la salute della gente. Io penso che a breve sarà affrontato e poi approvato e proposto alla Regione un atto aziendale che potrà essere migliorativo o peggiorativo e quindi noi dobbiamo essere attenti a conservare quello che abbiamo e eventualmente a migliorare qualcosa, ma che la sanità è cambiata, sta cambiando, non è la sanità di dieci anni fa, per cui il territorio deve essere nelle condizioni di fare delle proposte concrete e attraverso le quali l'ospedale potrà anche essere attrattivo su alcune patologie. In più di questo sono particolarmente orgoglioso e contento, il fatto che con la precedente giunta De Luca sono stati stanziati insieme all'ASL circa 5 milioni di Euro per l'ospedale di Sant'Arsenio, per cui anche l'ospedale di Sant'Arsenio sarà recuperato e quindi ci saranno davvero le condizioni per parlare di una sanità del Vallo di Diano. Stasera viene fuori un malcontento in generale perché significa che la sanità non funziona, però c'è da pure dire questo, che comunque stiamo vivendo un momento difficile, manca il personale, comunque c'è l'eccellenza all'interno dell'ospedale stesso, quello che manca è l'interfacciatura tra territorio e chi organizza i servizi. C'è un problema ed è quello della riorganizzazione di tutta la sanità nella provincia di Salerno e nella regione Campania. Noi abbiamo ospedali che assistano 15-20 mila abitanti, abbiamo invece ospedali che hanno un carico di utenza non indifferente. Allora va pensato, magari che dire, un esempio a casa, due ortopedici a polla e cinque oliovetrocida, fare un grosso reparto dove si garantisce la vera assistenza, dare la qualità in via definitiva. Una chirurgia generale che insomma dia risposta ai territori. E poi un'altra cosa, noi siamo aree interne, bisogna tenere conto a queste aree interne che bisogna dare la qualità assistenziale. Polla penso che deve recitare un ruolo importante, però in prima battuta viene il cittadino, bisogna dare risposta ai cittadini e penso che ci sono tutte le condizioni, in una nuova programmazione, in una nuova disegno di sanità può dare risposte importanti in questo terreno. E ora il maltempo, Vallo di Diano e Golfo di Policastro. Nella morsa del maltempo, nella giornata di ieri, le due aree hanno dovuto fare i conti, da una parte con il livello dell'acqua del fiume Tanagro sempre più alto e dall'altra con le forti mareggiate, intenso e incessante il lavoro dei volontari della protezione civile e degli agenti della polizia locale in campo insieme agli operatori dei diversi enti coinvolti. Vediamo. Giornata convulsa in tutto il Salernitano a causa del forte maltempo che si è abbattuto su tutto il territorio. Disagi e pericolo anche nel Vallo di Diano e nel Golfo di Policastro dove gli interventi si sono moltiplicati. Nel primo caso il fiume Tanagro e la rottura degli argini in alcuni punti ha creato non pochi problemi alle abitazioni ubicate al ridosso delle sponde. Nel Golfo di Policastro invece è stata la forza del mare a mettere in pericolo le comunità raggiunte da forti mareggiate provocando anche numerosi danni. Nello specifico nel Vallo di Diano si sono registrate le rotture degli argini in due punti del fiume Tanagro sia a Caiazzano tra Sassano e Padula e nei pressi del ponte Sant'Agata tra Sala Consilina e Sassano. In quest'ultimo caso in particolare polizia locale di Sala Consilina e volontari della protezione civile salese sono stati costantemente in allerta per verificare sulla sicurezza dei residenti. Gli agenti del comandante Felice Mollo infatti sono rimasti per lungo tempo in località San Giovanni per verificare la situazione e capire se il protrarsi del maltempo potesse arrecare danno e pericolo agli abitanti delle case poste al ridosso del fiume. Verso le ore 20 dalla polizia locale di Sala Consilina è arrivata la decisione di mettere al sicuro i residenti di un'abitazione che risultava tra le più colpite. Visto il protrarsi delle condizioni meteo avverse infatti sono stati allertati i vigili del fuoco e i carabinieri al fine di consentire agli abitanti della casa di lasciare la propria abitazione per raggiungere un posto più sicuro dove trascorrere la notte. Le operazioni di sgombero sono state eseguite dai vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina utilizzando un gommone con il quale le persone sono state messe in salvo. Gli agenti della polizia locale di Sala Consilina e volontari della locale protezione civile sono stati costantemente in allerta per tutta la giornata con continui controlli nei punti più sensibili al fine di garantire la sicurezza dei cittadini nelle aree maggiormente colpite ed intervenire prontamente nelle situazioni di emergenza. Ruspa ha lavoro invece su ponte Cappuccini tra Trinità e Silla sin dal pomeriggio di ieri. I comuni di Sala Consilina e Sassano già alle ore 11 del mattino avevano emesso ordinanza di divieto di transito. Strada chiusa mentre il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha provveduto a far giungere sul posto una ruspa al fine di eliminare ogni possibile ostruzione che impedisse il defluire naturale del corso d'acqua a causa della piena. Un intervento che ha consentito di evitare il peggio in un punto dove le abitazioni a rischio sono numerose. Per il Golfo di Policastro è stato invece il mare a far paura. A Sapri le onde hanno raggiunto l'arteria stradale principale superando anche i giardini pubblici. Le auto nella serata si sono ritrovate a dover percorrere l'arteria con il mare che aveva superato la carreggiata e raggiunto in marciapiedi depositando detriti e provocandolo un pochi danni. Danni anche a Espani dove in località Capitello la forte mareggiata ha trascinato con sé costruendo molo galleggiante. La furia del mare ha infatti scardinato gli attacchi a terra del molo trascinandolo con sé. Stessa situazione anche a Vibonati in località Villa Mare dove questa mattina operai e volontari erano al lavoro per cercare di liberare il lungomare dai detriti e dal fango. E mentre il fiume Tanagro minacciava aree interne sono arrivati attacchi verso il consorzio di Bonifica a cui oggi ha replicato il presidente Beniamino Curcio ricordando come l'ente consortile non ha la possibilità di effettuare interventi strutturali vista la corresponsabilità da parte di più enti sul corso dell'acqua. Curcio inoltre risponde agli attacchi ricordando come chi li ha lanciati da oltre 20 anni e in politica ma nulla fatto per risolvere l'atavico problema del fiume Tanagro. Il maltempo e le piogge torrenziali che hanno evidenziato la pericolosità del fiume Tanagro è stata occasione per puntare il dito contro il consorzio di Bonifica a Vallo di Diano Tanagro ritenendolo colpevole della pericolosità. Attacchi a cui replica il presidente dell'ente Beniamino Curcio chiarendo come il consorzio non ha il potere di risolvere i problemi strutturali del fiume ma l'unico intervento possibile riguarda pulizia e non possono essere considerati sufficienti. Come oggi ho avuto modo di chiarire in più occasioni, scrive Curcio per una sovrapposizione di responsabilità e di ruoli il consorzio di Bonifica non ha potuto e non può risolvere un problema strutturale decennale come quello dei nostri fiumi ed è sbagliato pensare che questo possa avvenire con la semplice manutenzione e pulizia degli alvei. Il problema delle sondazioni continua e degli allagamenti nella nostra zona viene da lontano ed è legato ad una serie di concause sia naturali che antropiche. In questi ultimi anni non siamo stati a guardare, rimarca Curcio mettendo in campo progettualità strategiche di ampio respiro indispensabile per affrontare con un'ottica strutturale le questioni alluvionali progetti in parte già finanziati e pronti per essere attuati. Abbiamo altresì attivato, spiega, forme di sinergie e collaborazione con altri soggetti istituzionali che ci hanno permesso di intervenire anche sul Tanagro dopo oltre 20 anni di totale abbandono. Beniamino Curcio si rivolge quindi a quanti hanno approfittato della situazione dovuta al maltempo per attaccare il consorzio, evidenziando come in parte sono gli stessi che hanno amministrato negli ultimi 20 anni senza far nulla. Il rischio idrogeologico è drammaticamente serio e attuale, spiega Curcio. Per il vallo e per l'intero territorio nazionale non si risolverà sicuramente con i modesti mezzi del consorzio di bonifica. Persone intellettualmente oneste e non meri sciacalli, scrive ancora Beniamino Curcio, avrebbero notato che immagini di frane, allagamenti e smottamenti hanno riguardato purtroppo vaste zone della regione, eventi di eccezionale portata che hanno determinato danni e disagi un po' ovunque, in particolar modo in aree strutturalmente più vulnerabili come il Vallo di Diano, dove sono caduti ben 120 mm di pioggia. E vorrei chiedere a chi vuole speculare politicamente, sono forse dappertutto colpevoli e responsabili i consorsi di bonifica? La verità è che, come spesso accade, sottolinea Beniamino Curcio, si vuole perpetuare un gioco al massacro che offende l'intelligenza delle persone, mortificando chi vive più direttamente i disagi e le minacce delle alluvioni. L'assunzione di responsabilità non è esercizio di tutti, è più facile fare chiacchiere e buttare fumo. Quando si uscirà dalla meschina logica dei giochi di potere fini a se stessi, continua duro Beniamino Curcio, per parlare il linguaggio della verità, quando sentiremo ognuno degli attori istituzionali in campo, assumersi ciascuno per quanto di competenza e la propria responsabilità e raccontare ai cittadini soprattutto cosa hanno fatto per il territorio nell'esercizio dei ruoli istituzionali che hanno ricoperto e che attualmente ricoprono, allora potremmo dire davvero di lavorare tutti insieme per il bene comune. Una recente intervista rilasciata dal direttore di Federcasse Gatti ha spinto il direttore della Banca Montepruno, Michele Albanese, ad una riflessione in riferimento alle regole che il credito cooperativo è chiamato a seguire. Una lunga riflessione in cui ricorda il ruolo svolto in questa fase di emergenza e spiega come siano necessarie nuove regole per il credito cooperativo affinché possano continuare ad aiutare il territorio. Il valore delle banche di credito cooperativo e la capacità di adattarsi anche in situazioni economiche difficili è il tema di riflessione del direttore generale della Banca Montepruno, Michele Albanese, anche sulla scia di un articolo pubblicato sull'Avvenire, in cui il direttore generale di Federcasse, Sergio Gatti, ha messo in evidenza come le regole imposte dall'Europa siano penalizzanti per il credito cooperativo. Il direttore albanese, ricordando come, pur condividendo la necessità di creare per il credito cooperativo modello più solido, era comunque necessario intervenire senza snaturale il ruolo delle BCC come banche di territorio. Ruolo, peraltro, confermato e certificato anche dal governatore di Banca Italia, che ne aveva riconosciuto l'importanza nel sostenere in particolare le imprese di piccole dimensioni. Nelle difficoltà del sistema economico, ricorda Michele Albanese, le banche di credito cooperativo hanno confermato resilienza e capacità di interpretare il momento e all'interno di una forte crisi di identità del modello, nell'epoca della riforma, hanno chinato il capo, dedicandosi al lavoro, adattandosi al nuovo sistema organizzativo. Il buon marinaio è colui che affronta il mare in tempesta con capacità, umiltà e saggezza e tanti buoni marinai hanno saputo dare risposte quando pochi credevano nelle nostre qualità, ma pensavano che all'indomani della riforma avremmo ceduto e consegnato le BCC nelle mani di qualche colosso del mercato bancario. Albanese evidenzia come invece le BCC, come anche la Banca Montepruno, siano riuscite a rendere i gruppi bancari una grande opportunità per raggiungere una solidità ed una redditività sempre maggiore. Incassato quindi il riconoscimento del governatore Visco, il direttore della Banca Montepruno guarda ora al futuro e al nuovo percorso anche dell'istituto di credito da lui diretto. E oggi, sottolinea Albanese, indispensabile soprattutto per le piccole e medie imprese avere un buon istituto di credito alle spalle, magari una buona BCC ovviamente, che abbia la capacità e i margini operativi per poter contribuire sui territori alla crescita e allo sviluppo. Voglio sottolineare che il nostro formidabile ruolo di creatori di valore sui territori ha necessità di ricevere un'iniezione di fiducia normativa da parte dei regolatori europei per liberare alcuni lacci della nostra operatività, non con presunzione ma sulla scorta di ciò che abbiamo dimostrato in questi anni di cambiamento. Vogliamo proseguire, continua Albanese, la nostra storia perché teniamo i nostri territori e vorremmo ogni giorno di più lasciare il segno per evitare che un'azienda chiuda per le bollette alte, che una famiglia vada in difficoltà perché la rata del mutuo che ha raggiunto livelli inaspettati oppure che i nostri ragazzi lasciano luoghi di nascita senza ritorno per andare altrove. Evidenziando come il direttore Gatti ha riaperto un discorso importante, Albanese sottolinea come la condizione sia ottimale per affrontare una nuova fase che vede il credito cooperativo ancora più al servizio dei territori e delle economie locali. Non vogliamo regole nuove, sottolinea Albanese, ma regole più giuste e proporzionali al nostro modello di fare banca. Non saremo mai banche grandi, non vogliamo essere banche grandi, abbiamo la volontà di continuare ad essere BCC buone. Sono trascorsi 42 anni dal terremoto del 1980, era domenica, il 23 novembre, quando alle ore 19.34 un sisma di magnitudo 6.9 sconvolse le vite di Campania e Lucani. Il ricordo di quei momenti è ancora indelebile. A resistere, oltre alla memoria di quei 90 interminabili secondi di terrore, è il senso di comunità che venne fuori dalla tragedia. Insieme, davanti ad un falò e in accampamenti di fortuna, per esorcizzare la paura della scossa e del domani, facendo leva sul senso di solidarietà e di comunità. Ricordi indelebili per chi ha vissuto quei momenti. Sono trascorsi 42 anni dal terremoto del 1980, era domenica, il 23 novembre, quando alle 19.34 un sisma di magnitudo 6.9 sconvolse le vite di Campania e Lucani. L'emblema della drammaticità di quell'evento resta il titolo del mattino. Fate presto, a caratteri cubitali, si chiedeva aiuto per intere popolazioni spaventate e inermi. Parole potenti rimandano a quei tragici secondi che poi divennero ore, giorni, settimane e mesi vissute tra lo sgomento e la paura dalle popolazioni più colpite. Quasi 3.000 morti, circa 8.900 feriti, oltre 280.000 sfollati. Sono i numeri della tragedia, le conseguenze di 90 interminabili secondi che portarono al disastro, le cui macerie in alcuni casi sono visibili ancora oggi. È stato il sisma più violento dal dopoguerra d'oggi, mise in luce varie problematiche, tra cui la fragilità del patrimonio edilizio italiano, l'enorme ritardo nei soccorsi e l'urgenza della realizzazione della moderna protezione civile. Le province più colpite tra la Campania e la Basilicata furono quelle di Avellino, Salerno e Potenza. Fu colpito anche il territorio del Vallo di Diano. Il riunirsi davanti ai falò della memoria è stato per anni qui una consuetudine e una tradizione per ricordare quei momenti di terrore, sì, ma anche il grande senso di solidarietà e di fratellanza che a 42 anni di distanza è l'unico ricordo positivo dopo quei 90 secondi di terrore. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. E eccoci di nuovo in studio, ben ritrovati. I ragazzi dell'Istituto Sacco di Sant'Arsenio raggiungono il podio nel concorso Storie di Alternanze 2022. Il loro progetto che prevede la realizzazione di uno chalet sul Monte Cervati è il risultato vincitore di 1000 euro. La natura e il paesaggio del Monte Cervati come location ideale per una nuova attività di impresa ricettiva. L'idea arriva dalle studentesse della terza D dell'indirizzo ITE dell'Istituto Sacco di Sant'Arsenio che è stata premiata nell'ambito del progetto concorso Storie di Alternanze 2022 ottenendo il premio in denaro di 1000 euro per aver raggiunto il terzo posto. Un risultato che ha inorgoglito la dirigente scolastica Rosaria Murano e tutta la scuola che punta proprio alla formazione dei ragazzi adattandoli al territorio e alle necessità occupazionali della terra in cui vivono. Le alunne del progetto di simulazione di impresa Cardinale Erika, Quozzo Marta, Di Biase Michela, Esposito Vera, Gaimari Alessia, Galatro Rosi, Lopardo Alessandra, guidate dai docenti Antonietta Magliasacco, Renato Sica e Giuseppe Caminiti, hanno realizzato un video in cui descrivono la loro attività di impresa del settore ricettivo, descrivendo la struttura e il contesto paesaggistico in cui la stessa viene realizzata. Il racconto multimediale di simulazione di impresa, denominato Adventure on Cervati, oltre a presentare l'Istituto Sacco e la classe che ha realizzato il lavoro, ha anche presentato le peculiarità del Comune di Sanza, individuato come luogo per la realizzazione della struttura, e lo stesso chalet con i servizi offerti tipici di una struttura ricettiva 5 Stelle. Raffigura le camere, il contesto paesaggistico, spiega le attività sportive che possono essere praticate, la mission, i punti di forza e di debolezza della struttura, il target a cui si rivolge, riporta prezzi, siti e anche un'ipotesi di piano economico finanziario. Un progetto ben strutturato, articolato in ogni parte, che guarda al futuro e che proprio per le caratteristiche ha ottenuto il terzo posto nella classifica del concorso Storie di Alternanza 2022, con grande orgoglio per la Preside Murano e per l'intero istituto. Si intensificano le iniziative volte all'attività di orientamento in vista dell'iscrizione al prossimo anno scolastico dell'Istituto Professionale per la Sanità e l'Assistenza Sociale di Polla. Dopo scuola aperta, la scuola tutti i giorni ha a disposizione dell'utenza per visite individualizzate e per ogni tipo di informazione che a disposizione dell'utenza si protrarrà fino alla fine di gennaio. Continuano le visite da parte di docenti e studenti presso le scuole medie del comprensorio nell'intento di far conoscere tutte le opportunità che il diploma conseguito al termine del percorso quinquennale di studi consente di sfruttare soprattutto in campo lavorativo ma anche per il prosieguo degli studi universitari. Per permettere alle famiglie e ai ragazzi di visitare l'Istituto e avere maggiori dettagli sulle discipline studiate direttamente dai docenti sono stati fissati due incontri, sabato 3 dicembre dalle 16 e 30 alle 19 e domenica 18 dicembre dalle 10 e 30 alle 13 durante i quali gli studenti dell'Istituto intratterranno gli ospiti con varie attività laboratoriali. Andiamo avanti tra le iniziative green del Cicerone di Sala Consilina ci sono i laboratori di riciclo e riuso creativo dei tessuti dell'Istituto Moda presentati lunedì scorso. Rientrano nell'ambito della quattordicesima edizione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti 2022 coerentemente con i progetti che la scuola realizza in tutti i suoi indirizzi per stimolare lo sviluppo di una coscienza ecologica nei ragazzi come ha raccontato la vicepreside Michelina Gasaro. Nell'ambito della quattordicesima edizione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti 2022 l'Istituto Moda del Cicerone di Sala Consilina ha presentato i laboratori di riciclo e riuso creativo dei tessuti curati dalla fashion restyling director Nicole Spolzino. L'iniziativa è stata pensata con l'obiettivo di sensibilizzare ed educare alla riduzione dei rifiuti anche attraverso il riutilizzo di materie prime tessili seconde per creare cosiddetti armadi verdi. Presso la villa comunale di Sala Consilina lunedì sono stati allestiti laboratori di riciclo creativo partendo da indumenti dismessi, maglioni, ombrelli, calze e jeans a dimostrare che in poche semplici mosse è possibile ricavare oggetti originali e utili con l'aiuto di un paio di forbici e le giuste indicazioni di guide esperte che assicurano dalle operazioni di taglio si può recuperare tutto. Anche piccoli pezzi di stoffa se sapientemente assemblati come hanno fatto le abili mani degli studenti dell'istituto moda possono diventare deliziosi gioielli perfetti anche come idee regalo. I laboratori sono solo una delle iniziative green che il Cicerone in tutti i suoi indirizzi realizza per stimolare lo sviluppo di una coscienza ecologica nei ragazzi come racconta la vicepreside Michelina Gasaro. Abbiamo disposto con piacere all'invito che ci è arrivato dalle scuole medie del Camera perché in effetti mission del nostro istituto è proprio quello dello sviluppo di una coscienza ecologica nei nostri ragazzi e a tal fine tutti i nostri indirizzi di studi perché il Cicerone abbraccia vari indirizzi di studi sono orientati verso lo sviluppo appunto di una coscienza ecologica. Abbiamo l'indirizzo sistema moda che è da anni impegnato nel recupero di materiali e di tessuti per dar loro nuova vita e nuove sembianze. Abbiamo l'indirizzo professionale per l'industria che è interessato anche all'aspetto ecologico dell'ambiente e infatti negli ultimi anni stiamo lavorando alla realizzazione di una macchina elettrica. Lo stesso dicasi per gli indirizzi tecnici sia l'indirizzo elettrotecnico ed elettronica sia l'indirizzo informatico e automazione. Entrambi indirizzati verso lo sviluppo di una coscienza ecologica attraverso lo sviluppo di attività legate all'energia alternativa quale il fotovoltaico oleolico oppure l'indirizzo informatico attraverso l'automazione e lo sviluppo dell'automazione della domotica. Non per ultimo bisogna ricordare l'altro nostro indirizzo tecnico il CAT che addirittura ha lavorato sulla realizzazione di una tipologia di calcestruzzo con il recupero di scarto legato agli pleomatici e questo calcestruzzo è possibile utilizzarlo nelle costruzioni di oggi e non ancora l'indirizzo agrario che proprio per sua natura è legato all'aspetto ecologico al rispetto della natura e si spende in questo senso. Anche il nostro indirizzo del legato al liceo classico è molto molto teso allo sviluppo di una coscienza ecologica e nei suoi studi privilegia questi aspetti legati al riuso al riciclo all'ecologia in effetti si può dire che fa parte proprio del nostro dna come istituto. Due ragazzi valdianesi sono stati premiati a Roma tra i 50 change maker di GenC di agenzia nazionale per i giovani a Sciocca Italia sono Chiara Di Clemente e Domenico Pastore tra i protagonisti del progetto Vallo Web Innovation Hub. Ci sono anche due valdianesi tra i 50 change maker selezionati nell'ambito del progetto GenC di agenzia nazionale per i giovani a Sciocca Italia premiati nei giorni scorsi a Roma nel corso dell'evento decidere scelte che trasformano il nostro tempo. Sono Chiara Di Clemente per la categoria giovani dai 13 e 25 anni e Domenico Pastore per la categoria mentor dai 25 ai 35 anni. Insieme ad altri giovani hanno dato vita a Vallo Web Innovation Hub un progetto che ora è un'associazione senza scopo di lucro spiegano i ragazzi che vuole diventare un punto di riferimento per lo sviluppo e l'innovazione nel territorio. La formazione con il coinvolgimento delle scuole l'accelerazione per realizzare progetti innovativi e la corporate innovation per supportare lo sviluppo la crescita e la digitalizzazione delle imprese sono le principali aree di attività di Vallo Web Innovation Hub. Dopo la premiazione a Roma i ragazzi hanno espresso la loro soddisfazione. Siamo onorati di essere stati selezionati tra i 50 changemaker italiani come protagonisti del cambiamento del nostro paese. Ufficialmente affermano entriamo come giovani changemaker nel progetto changemaker una comunità di giovani protagonisti per il cambiamento del domani. Abbiamo condiviso con decine di ragazze e ragazzi la nostra esperienza e abbiamo ascoltato le storie di chi non si è mai arreso, di chi ha ribaltato il senso incompleto e spesso distorto di tante etichette che negli anni sono state assegnate alle nuove generazioni principalmente per chi nasce e cresce nel mezzogiorno d'Italia. Infine i ragazzi di Vallo Web Innovation Hub lanciano un appello ai giovani. Abbiate il coraggio di inventare nuove regole per il mondo che vi circonda. Non lasciatevi intrappolare in una realtà troppo stretta e obsoleta. Abbiate il coraggio di intraprendere un percorso di trasformazione così da divenire voi i prossimi changemaker e protagonisti del futuro del nostro paese. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Grazie a tutti.